Preparati a ridere senza freni con Pierino. Pierino, cosa vuoi essere da grande? Ricco da fare schifo? Beh, sei già a metà strada. Ora devi solo diventare ricco. Un compagno di scuola fa Pierino. Pensa Pierino che la mia sorellina di un anno cammina già da tre mesi. Chissà come sarà lontana adesso. Pierino, cinque anni. È a passeggio con la mamma. Ad un certo punto incontrano una signora incinta, con un pancione enorme. Pierino chiede alla mamma. Mamma, mamma, che cos'ha quella signora nella pancia? La mamma, imbarazzatissima, risponde. Vedi, Pierino, quella signora ha bevuto tanto e si è riempita la pancia di acqua. Pierino si zittisce, ma dopo qualche passo replica alla mamma. Mamma, mamma, speriamo che il bambino che c'è dentro alla pancia di quella signora sappia nuotare. Pierino, smettila di suonare il violino o diventerò però pazza. Ma mamma, ho già smesso un'ora fa. La maestra rimprovera aspramente Pierino. Pierino, vergognati, sei il disonore della classe. Io alla tua età sapevo già leggere, scrivere e far di conto. Tu invece non sei capace di fare niente. Si vede che lei aveva una maestra brava. La maestra sta facendo lezione di scienze. Mentre sta spiegando i mammiferi, fa delle domande agli studenti. Pierino, sapresti farmi un esempio di un mammifero senza denti? Sì, mia nonna.